aspetta oddio google vaffanculo manco un sito madonna puttana accidenta dio signora bastardo cazzo palla tortura no non ci voglio andare qui aspetta no perché dove andare qui no aspetta non capisco oh dio marda ho capito che la differenza è stata tra quel posto del primo e questo è vediamo un po' oh scusa no non do più ce ne ho già finito no tranquillo allora ho appena capito dove dove andrò se vado a me tirano le frecce o sbaglio? oh capo attenzione parla finita stronti affanculo a dire una frecce non te vogliono bene una puttana più cani affanculo ah ah coglione questa è la domanda del giorno stronzo cancello pisanno ok 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 madonna ok 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 Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa vinci venite a coglioni morisse la famiglia almeno mi tappate scuoto buzzurro san fatucchio fruto chimico e lo accetterò benvenuto nella casa blu però la bomba che serve piuttosto brutto questo tanto ce l'ho il cecchino bene bene ha detto pena risate quanto anti creating reazione felice sei benvenuto nella casa blu questo deve essere il loro den non ti danno mai tregua fammi capire un seconda perché non ti fai una ragione no 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 No, 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 butter, 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 missioni per sto cazzo, le cecchino fa tanto, non ce l'è. Non, 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 è un'interessante. ok perfetto l'inventario pieno ma fa' il culo dio cane non capisco perché non posso buttare il pompe ok perfetto ok perfetto che fate ragazzi ok che sta infatti io metto adesso sei benvenuto nella casa blu ok non c'è spazio per la pistola questo è il rebus bolt 2 per il punto oh ma porco dio ma non ci sono ok 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 Grazie a tutti. La donna. Fui ora 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 Fui ora